Se tua figlia non c'è più e domani ti dicono che sono successe queste cose, tu conosci tua figlia, devi andare per forza, avanti e cercare di capire che cosa è successo. E poi non si pensa che le colpe poi alla fine non vengano fuori. Se ci sono, vengono fuori. Al via il processo per la morte di Martina Rossi, la giovane studentessa di Imperia, che precipitò da un balcone al sesto piano di un hotel delle Baleari il 13 agosto 2011, sul banco degli imputati due giovani aretini di Castiglion-Fibocchi, assenti questa mattina in aula. Gli imputati sono stati già visti un giorno, il primo giorno, ma perché li ho obbligati a venire a dire che guarda che mia figlia stava bene, non stava male, se no non tornavano nemmeno la seconda volta. Hanno dato quattro versioni diverse fino al 2012. Adesso poi tutte le volte che parlano le danno un'altra. Voglio dire, io non so, ecco, la mia valutazione, ma anche i contenuti, ecco, con i quali poi c'è dietro la morte di una persona, di una ragazza di 20 anni. Sui due ragazzi pende la pesante accusa di morte in conseguenza ad un altro reato, la tentata violenza sessuale. Secondo la pubblica accusa sostenuta dal procuratore di Arezzo Roberto Rossi, la giovane sarebbe infatti morta cercando di sottrarsi ad un tentativo di stupro. È chiaro che, voglio dire, il problema è cosa è successo in quella stanza, è perché Martina sta bene, sale da questi ragazzi, perché le sue amiche sono in compagnia, poi vola giù dalla finestra. La prossima udienza è in programma per il 27 marzo. Per decidere sulle eccezioni preliminari che sono state sollevate da me, che sono il difensore di Luca Vanneschi, e dal difensore di Alberto Alessandro, e siccome sono non di poco momento e soprattutto numerose, il collegio ha ritenuto riservarsi, quindi ad oggi ancora siamo fermi alle fasi preliminari del dibattimento e ne sapremo di più il 27 marzo. Il giudice si è riservato anche sulla missione come testimone dell'attore Carlo Verdone, citato dal legale di uno dei due imputati. Il procuratore Roberto Rossi si è opposto a questa richiesta della difesa. Tra i testi citati dai legali degli imputati, ovviamente anche l'unico testimone oculare, la cameriera Franzisca. È stato sentito ben quattro volte dalla Polizia Giudiziaria Spagnola, e quattro volte concordemente dall'Autorità Giudiziaria Spagnola ha rilasciato la versione addirittura andando a siglare e indicare il punto esatto della caduta. Quindi insomma per noi ha ovviamente un'importanza fondamentale.